Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori, è morto poche ore fa il grandissimo personaggio, grave lutto per la cultura e per la politica italiana, ci lascia un personaggio a 360 gradi e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le ultime notifiche. È stato un triste risveglio per l'Italia intera, a 87 anni ci ha lasciato un grande filosofo e un personaggio che ha spaziato in tutti gli ambiti il primavere di Marco Liguori con grande dispiacere comunica la scomparsa del filosofo Gianni Vattimo, padre del pensiero debole, è stato tra i più noti pensatori italiani, tra i massimi esponenti della filosofia ermeneutica a livello mondiale. Gianni Vattimo è stato anche europarlamentare, per ben due volte ha lavorato, anche in Rai ha preso parte più volte a spettacoli televisivi, quindi non esiteremmo a definirlo tra i pionieri della televisione italiana, un grave lutto, quindi per la filosofia, la politica e per la televisione italiana. Gianni Vattimo era un vero e proprio gigante, ci ha lasciato all'età di 87 anni da tempo, era gravemente malato. Il primo canale di Marco Liguori ricorda un gigante della cultura e della televisione italiana, il maestro Gianni Vattimo, mancato, ha 87 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi sui canali YouTube, secondo canale di Marco Liguori, Marco Liguori News e Marco Liguori. Psicologia e crescita personale, ciao a tutti.